Ciao ragazzi! Oggi andiamo a sostituire le spazzole tergi anteriori su Renault Clio Serie 3 e andiamo insieme a fare anche qualche considerazione. Le spazzole sono una delle cose più tralasciate dagli automobilisti, questo perché si cerca sempre di andare a rimandare la sostituzione, ma queste sono davvero molto importanti per la nostra sicurezza, perché in condizioni climatiche difficili una buona spazzola che ci aiuta a vedere la strada in maniera ottimale migliora davvero molto la sicurezza su strada. Già quando cominciamo a sentire i primi rumori oppure a vedere che la spazzola non lavora bene e lascia dei segni, lì dobbiamo agire. Prima di tutto io vi direi, prima di sostituirle, andare a provare a fare una pulizia del gommino utilizzando un detergente andiamo a provare a pulire quella parte. Se ancora la spazzola comincia a far rumore e non lavorare bene, allora lì è il caso di andarla a sostituire. Come voi ben sapete ci sono vari tipi di spazzole in commercio, da quelle economiche con una intelaiatura in alluminio semplice, a queste più complesse che hanno un sistema particolare per andare a pulire il vetro soprattutto alle alte velocità. Hanno una specie di deflettore che ad alte velocità tende a premere la spazzola sul vetro. C'è da dire che i costruttori oggi tendono a montare questo tipo di spazzola già di serie, cosa che una volta non si faceva, anzi se non sbaglio si usavano dei deflettori applicati sul braccetto della spazzola o sulla spazzola addirittura per tenerla ben attaccata al vetro. Mi sento di consigliarvi questo tipo di spazzola in particolare perché sinceramente sono davvero tanti anni che le utilizzo e mi trovo molto molto bene e durano tanto. se tenute bene e pulite di tanto in tanto durano un anno, un anno e mezzo tranquillamente. Qualora voleste sostituirle anche voi vi lascerò sotto nelle descrizioni il link per poterle andare ad acquistare e utilizzando questo link andrete a supportare il canale. Procediamo, non perdiamo altro tempo e andiamo a fare questa sostituzione, dai! Ed ecco qui le nostre spazzole, come vi dicevo prima e avete visto sono Bosch Aerotwin il modello. Per quest'auto, per la Clio 3, il modello corretto è A116S, lato guida 60 cm, lato passeggero 40 cm. Troviamo le applicazioni per Citroen, DS, Peugeot e altri modelli di Renault. Quindi questo video vi può essere anche utile se avete questa tipologia di auto. Ve le faccio vedere. Ed eccole qui le nostre spazzole. Questa serve ad alte velocità per mantenere la spazzola ben aderente al vetro e come vedete è anche già curva. Una volta che viene premuta dal braccetto resti ben aderente sempre al vetro. Andiamo a montarle. Una cosa che ho notato sono questi due segni che sono fatalità in corrispondenza ai bracci dei tergi. Non so se per sostituire le spazzole abbiano provato a muoverle ed abbiano rovinato la vernice. Questo non lo so. Ma in questo caso noi per andare a togliere le spazzole correttamente andiamo ad alzare tutti e due i bracci. Così che non andrà a toccare il braccetto contro il cofano. Alzati i bracci semplicemente in questo caso noi dobbiamo alzare leggermente in questo punto e spingere con forza verso l'alto. E viene via. Ecco qui. Inseriamo semplicemente così. Una volta che è inserito spingiamo giù tutto. Sentirete un clac. Perfetto. Faccio la stessa operazione anche per l'altra. Alzo il piccolo gancetto che c'è qui e vado a tirarla verso l'alto. La facciamo scorrere e agganciamo anche questa. Come avete visto ragazzi l'operazione di sostituzione spazzole tergi su questa Renault Clio terza serie è stato veramente un gioco da ragazzi. Prima di salutarvi vi ricordo che sono presente anche su Facebook, Instagram e TikTok dove anche lì vado a pubblicare di tanto in tanto altri video e contenuti. Per questo video ragazzi è tutto. Noi come sempre ci vediamo a un nuovo video. Ciao! Ciao! Ciao!